Oggi giovedì 27 aprile buongiorno ben ritrovati a tutti i cari telespettatori questa è la rassegna stampa occhio ai giornali che come tutte le mattine dal lunedì al sabato va in onda in diretta alle 7.30 poi in replica fino alle 8.30 dopo c'è la messa alle 8.30 al termine della quale c'è di nuovo una replica quindi siamo intorno alle 9.10 subito un'altra replica alle 11 dopo il telegiornale e alle 13.30 e poi naturalmente on demand sul sito internet occhianotizia.it il salto di oggi andiamolo a vedere subito con la grafica oggi è Santa Zita il sole è sorto alle 6.05 tramonterà alle 20.06 che tempo ci attende visto che siamo così vicino al primo di maggio questo è il sito di trebimeteo.it che ci indica oggi nuvole e piogge sparse più frequenti sulle zone dell'entroterra e a tratti anche sulle coste marchigiane per la giornata di domani iniziale instabilità poi in graduale miglioramento nel corso della giornata vedete questo è il pomeriggio poi la sera dunque migliora il tempo sabato 29 soleggiato disturbi sulle marche tra mattino e pomeriggio questa è la sabato mattina con anche temporali temporali che poi daranno spazio a delle schiarite continueranno un po' nell'entroterra un po' sul sud delle marche la sera migliora e domenica 30 invece il sole che sarà prevalente con un clima però abbastanza frizzantino insomma al mattino un po' fresco il primo di maggio andiamo ci spingiamo oltre il primo di maggio possiamo dire che per ora il tempo sarà decisamente soleggiato allora prima di andare a vedere i giornali chiaramente in apertura questa mattina tutti i quotidiani il carlino il corriere le edizioni di peso urbino pubblicano la sentenza nei confronti dei due imputati igli e mario e parliamo ovviamente dell'omicidio di ismaele lulli prima dicevo andiamo a vedere la segnalazione di un nostro telespettatore ecco perché diciamo sempre il nostro numero segnalateci segnalateci le cose perché poi ve le riportiamo e possono essere utili anche a tutti voi che ci seguite in questo caso provincia di peso urbino strada per roma cantiano quindi se state andando da quelle parti insomma sappiate che c'è un incidente ecco qua la fotografia guardate spaventosa di questo brutto incidente che è avvenuto sulla sulla strada devo leggere insieme a voi perdonatemi un attimo anche la la località esatta ce l'ha mandato un nostro segnalatore allora questa mattina mentre andava al lavoro a cantiano sono capitato in un incidente con un tir che si è scontrato con un furgone che poi si è ribaltato ecco le immagini il camion si è ribaltato dunque la strada è stata chiusa naturalmente la superstrada è stata è stata chiusa il camion si è ribaltato occupato tutta la superstrada e anche la vecchia flaminia io non dice lui il segnalatore giustamente non si è avvicinato spero che l'autista si sia salvato allora questo è il camion questo è appena successo il nostro segnalatore vedete ancora tutti i detriti per strada questa è la fotografia del tir che si è ribaltato invece questa è la fotografia del dell'altro mezzo dell'altro mezzo molto più piccolo che però vedete è rimasto coinvolto in questo incidente naturalmente seguiremo questa questa notizia e quindi ve ne daremo conto nel corso della giornata sul nostro sito internet e poi stasera le 20 e 30 con il telegiornale sul nel telegiornale occhio alla notizia allora andiamo adesso a leggere i giornali ergastolo ergastolo per igli meta sentenza sul delitto di ismaele igli meta condannato all'ergastolo mentre per mario mema 28 anni e 4 mesi ma il colpo di scena è che ambera la ragazza la fidanzatina di igli finora tenuta fuori da questo processo e però principale testa ed accusa diventa indagata per complicità nell'omicidio questa è la foto ed è la copertina di tutta questa giornata ieri è stata una giornata in cui la camera di consiglio si è riunita per più di sette ore una camera che è durata tantissimo le pagine interne velocemente la fidanzatina che inviò il messaggio trappola ambera da testimone si ritrova dunque complice la corte ordina la trasmissione degli atti e la procura per omicidio premeditato nella fotografia invece nelle fotografie in basso più piccole la lilliu il pm il pubblico ministero irene lilliu della procura di urbino si è visto riconoscere l'impianto accusatorio mentre l'avvocato carlo taormina della difesa dice igli ha gettato via il coltello dopo aver sferrato i primi due fendenti aveva solo tentato di uccidere ma le versioni della difesa sono cambiate dal primo giorno fino all'ultimo sono cambiate continuamente poco credibili igli la mente mario lo ha aiutato questo il corriere adriatico ergastolo e 28 anni alle due belve il colpo di scena come dicevamo però è la trasmissione degli atti al pm per indagare su ambera saligi per il concorso in omicidio premeditato nei guai appunto anche la fidanzata di meta che adesso dunque sarà indagata tante pagine su un corriere adriatico in questa qui la pagina 2 c'è anche la cronistoria di questa tragedia il 19 luglio del 2015 domenica è una domenica soleggiata di caldo ismaele lulli 17 anni viene attirato in trappola e ucciso in località san martino selva nera a sant'angelo invado i suoi guzzini gli tagliano la gola dopo aver legato la dopo averlo legato alla croce della vicina chiesa il corpo viene ritrovato il 20 luglio da un agricoltore che passava di lì casualmente lo ha trovato era gettato in un dirupo dopo la morte e il 21 luglio per quella morte sono stati fermati dunque a nemmeno 24 ore dal ritrovamento del corpo martoriato di ismaele due giovani albanesi della zona igli meta e mario mema entrambi sono accusati di omicidio il movente la vendetta per gelosia e il 22 luglio sant'angelo invado si ferma perché è lutto cittadino per i funerali di ismaele lulli fino a ieri 26 aprile la sentenza di condanna in primo grado due mamme quella che vedete a destra debora che ieri ha detto ho solo voglia di piangere questa è una piccola giustizia mamma debora raggelata dopo una estenuante attesa mentre a sinistra sorretta la madre di mario che è stato condannato a 28 anni e 4 mesi piange a dirotto anche la madre di mario mema subito dopo la lettura della sentenza che ha condannato il suo figlio immolato alla croce ecco il luogo qui siamo in san martino selvanera il luogo in cui ismaele è stato ucciso quel bagno al fiume poi per lavare il sangue in una domenica di caldo e sole scatta con un sms la trappola per ismaele morirà in modo atroce l'orrore marchierà per sempre sant'angelo invado mario meritava l'ergastolo ci guardava con aria di sfida l'amarezza dopo la sentenza dei cugini stretti attorno alla mamma della vittima stretti tutti attorno a debora dare conforto alla famiglia c'era anche michele ferri fratello del benzinaio ucciso cambiamo argomento rimaniamo sul correo adriatico c'è una notizia che arriva da mondolfo accaduto ieri pomeriggio dopo le 17 un bambino che è stato investito da un'automobile adesso è grave l'eliembulanza lo ha portato all'ospedale salesi di ancona attraversava in corrispondenza dell'incrocio l'undicenne grazie dio non è in pericolo di vita dal resto del carlino invece sfrattato il dramma di un pensionato sono abusivo ma non cacciatemi è un invalido al cento per cento chiede un atto umanitario dieci anni fa il 76enne occupò 45 metri quadrati in via cattaneo e lui dice sì l'ho occupata l'ho occupata dieci anni fa un amico mi aveva detto che era libero un appartamento del comune a piano terra di via cattaneo la porta era aperta e dunque sono entrato c'era sporcizia tanta roba io ripulito un po tutto ed è stato lì si è messo lì ed è lì da dieci anni ora però ora però ora però bisogna fare i conti con la legalità e con la giustizia e dunque adesso però chiede un aiuto la pagina di fanno del corrier del resto del carlino fanno si riprende la sua rocca stanno per terminare i lavori alla rocca malatestiana dalle scale di sicurezza alla rocchetta che riapre dopo 70 anni la struttura potrà ospitare fino a 800 persone un drone all'opera per i rilievi dall'alto il corrier adriatico la pagina di fanno attaccando il sindaco seri si è indebolita l'intera città laura serra consigliera comunale di noi città dice sull'ospedale c'è stato un logorante tiro alla fune e dunque la laura serra censura la strategia delle minoranze del vecchio quando scelse forso signore non brandi dice ancora la serra la spada pesaro centrica la delibera per muraglia che dimentica la viabilità da e per fanno per le primarie invece nove seggi in città con 50 volontari il pd in campo per la scelta del segretario nazionale votano anche i 16 anni il turismo il turismo settore trainante cenerentola per il comune perché perché nel bilancio sono stati stanziati per il turismo a fanno solamente 300 mila euro ecco per quali destinazioni e poi però vedete i visitatori che vengono a fanno per vedere l'arco d'augusto che anche noi abbiamo intervistato nei giorni scorsi in occasione del 25 aprile tutti dicono che fanno è molto bella però ci sono degli scorci francamente che lasciano un po' basiti qui siamo di fronte all'arco d'augusto questa è una casa degradata che ha due passi come scrive giustamente il coro adriatico a due passi dall'arco d'augusto questa casa questo questo questa scena questa bruttura così come ce n'è un'altra lido di passaggio è sempre lì la ritroviamo di fronte ecco molte hanno commentato insomma un po così soprattutto una committiva dei turisti racconta il giornale questa mattina ha raccontato insomma che che ci fa questa questa casa così a due passi da un bene monumentale così importante come l'arco d'augusto promesse vanno invece dalla della politica per il collettore fognario quello che serve a evitare gli allagamenti l'impegno senza esito assunto dal 2006 case e statale sott'acqua tutte le volte che ci sono i nubi fragili sul resto del carlino attenzione da urbino bocconi avvelenati sulle cesane muore un cane attenzione ai cani c'è questa ragazza che ha scritto un cartello si è fatta fotografare in questo campo nel cartello si legge in questo campo ci sono polpette avvelenate un cane morto dopo aver ingoiato una polpetta avvelenata alle cesane subito è partito l'allarme attraverso i social network di tutti coloro che frequentano la strada che sale al monte della conserva vicino alla chiesa di santa maria delle selve da senigallia corriere adriatico pugna l'amico e atti vandalici le spy cam incastrano un sedicenne spacca la vetrina di un distributore e il titolare consegna i filmati ai carabinieri ora questo ragazzino di 16 anni di soli 16 anni si trova in comunità immortalato anche un ragazzino che fa i suoi bisogni all'interno dello stesso negozio a urbino danni del sisma danni del terremoto con commercio contro tutti noi siamo stati tagliati fuori l'associazione dice città esclusa dagli indennizi per il turismo nel silenzio delle istituzioni acque profonde via libera il burano tra risorsa e riserva i 5 stelle si apre i prelievi il pd non è vero solo ad esami decide lato l'opposizione aveva chiesto di cancellare l'emendamento approvato in regione invece l'ultima pagina la dedichiamo a quella dello sport perché perché il fano adesso respira l'ancona infatti è stata penalizzata di un punto e dunque si allontana per i granata la retrocessione diretta parliamo di calcio ovviamente carotti noi dobbiamo pensare solo a vincere queste ultime due gare che restano e dunque speriamo che il fano possa rimanere lì in lega pro e questa è la pagina del corriere adriatico il numero lo vedete è il 338 4968 250 a vostra disposizione per le vostre segnalazioni io mi fermo qui grazie per averci seguito a voi tutti l'augurio di una buona giornata arrivederci